Una chiacchierata con l'archeologo. È stato nominato così il primo di un paio di incontri in Piazza del Popolo, ideato dal Comune di Pesaro in collaborazione con la soprintendenza, per fare luce sulla storicità dei resti ritrovati nel sottosuolo della piazza, durante i lavori di rifacimento della pavimentazione. Lo studio Tecne, coordinato dall'archeologa Erika Valli, dopo essere entrato in contatto settimana scorsa con dei reperti scheletrici umani risalenti al Medioevo, ora ha a che fare con la scoperta di alcune mura di edifici sempre del 1500, abbattuti in quel periodo per fare spazio all'ampliamento di Piazza del Popolo. Un appuntamento quello di oggi che ha attirato tanta curiosità da parte dei cittadini, che in questi giorni si sono alternati dietro le transiene della piazza per carpire nei minimi dettagli i segni del passato della città di Pesaro. È stata una bella occasione di racconto per dare a tutti i pesaresi, curiosi, ai ragazzi, agli studenti e anche agli appassionati di storia, soprattutto agli appassionati di storia, un racconto di come stanno procedendo queste fasi che si intrecciano alle lavorazioni sulla pavimentazione della piazza. Quindi grazie al lavoro degli archeologi sotto la direzione scientifica della sovrintendenza abbiamo pensato di organizzare un paio di appuntamenti come questo, informali, aperti a tutti per riportare le varie scoperte che si stanno facendo. Quindi è stata un'occasione per riscoprire anche un pezzo di storia della nostra città che non si conosceva e che non era emersa neanche con le prime fasi di indagini realizzate con il Gioradar nel mese di marzo. Questo tipo di scoperte rimarrà nel sottosuolo anche perché è il miglior modo in questo modo per conservarle. Già abbiamo visto in questi giorni come queste aperture la mattina siano piene purtroppo di rifiuti, portati dal vento, portati che si finiscono per depositarsi lì che poi ogni mattina gli archeologi ripuliscono. Quindi in questo momento abbiamo condiviso una serie di interventi assieme agli archeologi, assieme alla sovrintendenza che poi consentiranno di riportare la piazza nella sua piena fruibilità. Gli scavi e gli studi degli archeologi che stanno proseguendo da diversi giorni non nascono dal bisogno di ricerche e di conoscenza di quello che il sottosuolo della città di Pesaro può offrire ma nascono da un'esigenza improvvisa dettata dai lavori della piazza. Lavori della piazza che comunque proseguiranno parallelamente nei tempi previsti e che non verranno interferiti dalle ricerche condotte dal gruppo archeologico. Nella giornata di domani arriverà un'altra squadra di posatori che inizierà il posizionamento dei San Pietrini così come delle lastre in giallo d'istria. Parallelamente proseguiranno i lavori della sovrintendenza. Lavori della sovrintendenza che proseguiranno per altri 10-12 giorni per poi elaborare i dati finali raccolti e comunicarli pubblicamente.